benvenuti nella cucina di gilda ciao amori che sa ma fa de bono oggi gildarella allora amori io oggi sono andata in frutteria che mi sono trovata vicino a una frutteria dove ce vado a comprare un po di verdure e finalmente ho trovato le mie patate quelle belle guardate così patatone ecco che io con queste ci faccio una bella frittatona senza uova allora ecco le taglio a fette questa è una frittata che faceva mi madre le condiva tutte e poi ci faceva una frittatona tagliata a fette così vedete faccio vedere lo spessore vabbè quello fate un po' a occhio pure voi insomma ecco io faccio proprio precisissima guarda mi sbrigo c'è poco da fa ecco allora allora sono tre belle patatone che vi ho fatto vedere adesso le vado a sciacquare poi le asciugamo bene e poi vi faccio vedere tutto il procedimento allora ecco qua adesso gli diamo una bella asciugatina ecco fatto canavaccio pulito certo e adesso le mettiamo qua in ciotola allora questo è semplice semplice allora mo ci mettiamo un po' di sale ecco qui il sale ciotolo mette poi ci mettiamo un po' di pepe ecco allora poi ci metto una bella manciata di pangrattato guardate allora poi ci mettiamo un paio di cucchiai di amido di mais e uno e due questa è una ricetta cagliarda raga si si e poi ci mettiamo un po' di parmigiano 3 e 4 belle cucchiaini va bene e adesso mischiamo tutto con le mani con le mani con le mani con le mani con i piedi con le mani e poi non lo dimo va allora io adesso metto un po' d'olio qui nella padella ecco fatto voilà ok allora olio dei semi eh allora giramo bene qua 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 eccole eccole fate una girella si ecco così tutta giro giro e certo così allora adesso il parmigiano il pangrattato noi lo mettiamo sopra ecco qua allora mettiamo un altro po' d'olio perché ci serve ecco perché questo è come se fate fritte ecco fatto e allora adesso la mamma mette sul fuoco allora eccole qua eh se stanno a coce io adesso ci metto il coperchio sopra va bene le faccio cuocere a fuoco medio va bene allora adesso dopo un quarto d'ora ecco qua tolgo tutto l'olio perché la devo girare ecco fatto e con l'olio non si può girare quindi fate questo procedimento e certo e l'olio e poi la girate certo allora adesso la giro ecco fatto vedete eccola qua guardate che bella bella bruscata adesso adesso rimetto adesso rimetto l'olio che ho levato ecco qua e mettiamo la frittata di patate vai e la facciamo cuocere dall'altra parte sempre coperta eccola qua guardate che bella favolosa guardate che spettacolo guardate com'è dorata mamma mia guardate mamma mia guardate che patate sentite come scrocchiano uno spettacolo eccole qua sono tutte appiccicate una bontà senti un po' com'è girare mamma mia sento un po' buona c'ho l'acquolina in bocca mamma mia ragà questa è proprio carina eh questa è favolosa è proprio buona allora fatela perché è veramente buona e semplice allora a fine cottura dovete rifare lo stesso lavoro togliere l'olio eh certo e poi la girate e la impiattate ma levate tutto quanto l'olio perché sennò girando ve bruciate e poi quello serve solo per la cottura e va tolto e girarello intanto magna 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 bella scrocchiarelle proprio e staccate così guardate mamma mia è troppo buona raga no vabbè dai contorno è buonissima poi la tagliate così fate le fette ok la tagliate a fette va bo se no va a mangiare come pepà adesso andiamo a mangiare noi che spettacolo una meraviglia ottima va bene amori mi raccomando fatela questa ai bambini piace pure i grossi solo ai bambini girare e namo questa penso che piace un po' a tutti vero ragazzi va bene amori adesso vi mando tanti baci belli sempre dal cuore e dalla cucina di Gilda amiamo tutti lo sapete e piatto ricco piatto ricco micifico